Ciao Glitterine, oggi è un video un po' particolare, molto veloce, non si tratterà di make up, ma siccome sto leggendo diversi libri, uno in particolare mi ha veramente incuriosito, avevo studiato degli estratti di questo libro e ho deciso di acquistare tutto il libro integrale. Oggi voglio soltanto condividere con voi una frase che c'è nella copertina. Mi è piaciuta tanto e quindi ho veramente il piacere di condividerla con voi. Ora l'andolo a leggere, partiamo dal presupposto che io sono una persona molto semplice e sono sempre me stessa. E penso che sia la cosa che dovremmo fare un po' tutti, non nasconderci dietro a delle maschere, ma più che altro imparare a vivere con noi stessi e a mostrarci e a mostrare quello che siamo realmente. Ora, io mi occupo di make up, ok? È una passione, una mia grande passione, ma quello che ho già detto anche in un video è quella che il trucco, i colori, non servono a nascondere la nostra persona o a truccarci sì per migliorarci, ma non per trasformarci. Quindi dobbiamo sempre accettare noi stessi per quello che siamo, anche per poter vivere bene con tutti. Quindi il trucco non è una maschera che dobbiamo indossare, è soltanto una maschera, tra virgolette, se vogliamo usare questo termine, per migliorarci o magari per sentirci forse non più donna, ma magari un po' più sistemate, anche se ci sono comunque sia persone, ragazzi, che stanno benissimo anche senza trucco e non lo utilizzano. A me piace e quindi, tornando alla frase, io voglio, appunto parlando di se stessi, voglio leggervi questa frase. E' bellissima, cercate di cogliere un po' il senso di quello che vuole dirvi veramente, che è un po' un'introspezione soggettiva. Allora, l'autore è Leo Buscaglia, che è un filosofo, e dice Forse l'amore è il processo con il quale ti riconduco dolcemente a te stesso, non a ciò che io voglio che tu sia, ma a ciò che sei. L'amore si impara, come qualunque altra cosa nella vita, non è definibile a parole, è piuttosto un modo di vivere, di essere e di sentirsi vivi. Se si assimila questo concetto nella forma più piena, si può alla fine ottenere dalla vita il premio più ambito, quello di essere completamente se stessi. Ecco ragazze, queste sono pochissime righe, non lo so perché, quando io le ho lette mi hanno veramente fatto riflettere. Ora, lo so che è un video un po' diverso dal solito, però un'altra mia grande passione è la lettura. Dietro qui potete vedere soltanto un quarto dei libri che ho, leggo molto, ora ho altri tre libri che mi stanno attendendo, e ho iniziato a leggere questo qui, magari lo leggerò e non appena lo finisco vi dirò cosa ne penso. Già so che comunque è molto bello, molto riflessivo, che porta a autostudiarsi. Fate, diciamo, custodite queste parole e magari può aiutare qualcuno a uscire dalla propria maschera, a far cadere questa maschera, a mostrarsi, ad essere semplicemente per quello che è e quindi accettarsi. Ragazzi, io vi avevo detto già all'inizio che questo sarebbe stato un video brevissimo, molto introspettivo, lo so, non c'ha nulla di make-up, però a me fa comunque piacere pubblicarlo. Io nel frattempo sto preparando altri video, scrivetemi giù nei commenti, se volete che vi parli sia di qualche libro ma anche di un altro prodotto di make-up, se ne avete voi acquistati di nuovi, scrivetemi tutto giù, mettete un like al video. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale, vi aspetto sempre numerosi e besitos!